All'aeroporto di Torino nuova opportunità per frettolosi e ritarratari cronici. Si chiama Fast Track ed è un servizio dedicato agli imbarchi dell'ultimo minuto. Dopo gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Oriol Serio, anche quello del capoluogo torinese, si è dotato di questa prerogativa. Attivo tutti i giorni dalle 5.30 alle 21.30, costa 5 euro ed è invece gratuito per i possessori della carta Free to Fly Gold dell'aeroporto di Torino.